Ci sarà la pagine fiscale che è Roventini che finisce il condono e la legittima difesa? Guardi, la prima misura di questo governo si chiama decreto dignità. Praticamente elimina la burocrazia per le imprese, soprattutto studi di settore, redditometro, spesometro. Ci sarà un intervento al secondo punto sul precariato, soprattutto dei più giovani, rivedendo alcune regole sul contratto a tempo determinato che viene rinviato all'infinito, e viene rinnovato all'infinito in Italia, vieteremo la pubblicità sul gioco d'azzardo e interverremo sulle delocalizzazioni che stanno a cuore anche molto alle persone che sto per andare a incontrare perché c'è un sacco di gente che viene lasciata in mezzo alla strada perché le aziende straniere vengono qui in Italia, prendono i soldi pubblici e poi se ne vanno all'estero. Questo è il nostro primo decreto, questi sono i fatti e come ho detto ieri ai parlamentari, ma io spero la settimana prossima. Grazie.